Ciao a tutti ragazzi sono Cava111 benvenuti in questo nuovo video di Dirt Rally continuiamo subito la nostra carriera con il nostro Giovanni Scatarri o Gianni non me lo ricordo mai continuiamo il nostro campionato aperto con la nostra Mini Cooper S siamo arrivati al... mi sono sbagliato l'episodio precedente ho detto che sono quattro tappe, quattro serie di tappe invece sono sei siamo arrivati alla terza serie di tappe quindi siamo a metà nel campionato generale diciamo siamo secondi mi sembra che la prima serie di tappe siamo arrivati terzi e la seconda serie di tappe che abbiamo fatto a Monte Carlo siamo arrivati secondi questa è la terza serie di tappe e appunto nel campionato generale siamo comunque secondi devo dire che sono andato abbastanza bene l'ultima volta soprattutto perché comunque essendo un campionato aperto la difficoltà non è elevatissima e anche perché comunque era sull'asfalto devo cercare di mantenere la concentrazione perché non essendo più sull'asfalto potrebbe essere un casino il mio obiettivo comunque è finire questa serie di tappe questo campionato aperto almeno nei primi tre attualmente ce la sto facendo vediamo di... vediamo di farcela vediamo di arrivare basta a secondi dai sarebbe un ottimo risultato avviamo subito la tappa con la nostra Mini Cooper S che è la macchina più scrausa del gioco 5, 4, 3, 2, 1, via che inizio di merda ragazzi merda sta cazzo di neve ragazzi dobbiamo stare molto al centro perché se c'è questa neve che dà un fastidio a Porto sinistra 6 destra 5 lunga dosso sinistra 6 dritto nell'appostamento sinistra 4 attenzione sinistra 5 lunga si albe sul dosso salto destra 4 mezza lunga dosso 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 cazzo destra 3 su punetta 60 attenzione sinistra 4 su dosso salto si albe sul salto via le destra 3 sinistra 4 lento sempre destra 3 poi sinistra 2 lunga punetta destra 3 stretta non tagliare poi dosso salto sinistra 5 mezza lunga su punetta vai 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 non vedo nemmeno tutta la strada con sta neve del cazzo sinistra 5 mezza lunga sul dosso salto 40 destra 4 mezza lunga sinistra 6 sinistra 6 lunga poi stai al centro sul grosso salto 80 grosso salto eccolo qua porca troia si apre si apre si restringe su punetta di fotografia questo attenzione curva sinistra 3 su punetta merda 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 sinistra 3 mezza lunga si apre piano piano destra 3 perdiamo dei secondi preziosi su sta cazzo di neve chiedi la destra suddosso punetta 60 attenzione punetta poi sinistra 4 si restringe diventa 3 suddosso curva difficile con pezza destra 2 mezza lunga sinistra 3 si apre 60 suddosso lungo destra 5 80 addosso già il ghiaccio c'era sinistra 4 si restringe suddosso a Monte Carlo ora abbiamo anche la neve destra 5 80 nell'affossamento occhio destra 4 suddosso si apre e continua per 80 no 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 sta cazzo di neve meno male che siamo caduti relativamente bene abbiamo perso i secondi ma almeno non dobbiamo recuperare il veicolo destra 5 poi destra 5 stai all'interno destra 5 lunga continua su punetta e sinistra 5 40 rossa punetta destra 5 lunga 40 punetta spostamento destra 4 suddosso punetta 60 sul punette sinistra 5 lunga continua suddosso forse salto 40 traguardo 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 a manetta a manetta insomma sicuramente stiamo andando peggio rispetto a Monte Carlo che c'era l'asfalto comunque terzi ovviamente i primi due Clark e Wilson comunque ci hanno dato un po' di distacco peccato andiamo avanti andiamo avanti non demordiamo come vedete ho cambiato anche supporto di registrazione come è stato per l'ultimo American Truck uso il mio telefono attualmente funziona un po' meglio abbiamo perso una posizione non ho visto nel campionato nella classifica globale se sono già sceso o no in ogni caso noi non demordiamo cerchiamo di fare queste tappe più velocemente 5 4 3 2 1 via sinistra 4 40 cunetta su incroni destra 5 occhio cunetta approssamento sinistra 5 suddosso 60 sinistra 4 lunga suddosso si apri 40 occhio destra 5 sinistra 4 stretta la concentrazione è fondamentale in sto giochetto del cazzo sinistra 5 cunetta destra 6 approssamento sinistra 6 suddosso forse salto 40 sinistra 5 destra 5 mezzalunga 60 cunetta destra 4 mezzalunga 40 sinistra 4 lunga suddosso 40 occhio sinistra 4 stai all'interno destra 3 suddosso dopo pivio 60 destra 3 sul piccolo dosso 40 sinistra 5 dopo pivio 60 attenzione pulva destra 2 al dosso 40 piccolo dosso cunetta sinistra 2 nell'abballamento destra 5 mezzalunga e dosso sinistra 3 nell'abballamento dosso 60 destra 3 stretta destra 3 stretta stretta con il dosso 40 occhio curva destra 5 dopo pivio si restringe diventa 3 lunga 100 su 2 dosso destra 6 sinistra 6 80 dosso forza santo destra 6 100 dosso forza santo occhio destra 5 destra 5 la tranquilla sinistra 4 e dosso tienila destra su dosso lungo piano piano sta neve di merda sta neve del cazzo destra 3 dopo pivio quanto mi sa sulle balle sinistra 4 destra 2 nell'abballamento non tagliare 40 sinistra 3 su cunetta e la frizzatina devo capire perché destra 4 60 su piccolo dosso sinistra 4 lunga si restringe destra 2 c'è qualcosa magari in background che mi sta non lo so soddisfo ampiamente i requisiti consigliati di questo gioco quindi occhio destra 5 continuo a vedere perché mi frizza oggi 80 destra 5 sudosso concentriamoci adesso sinistra 4 poi destra 2 40 sinistra 3 lunga stai all'interno sinistra 4 sudosso destra 3 lunga si apre sinistra 4 mezza lunga sudosso 150 sinistra 4 lunga si restringe destra 4 lunga si apre e si restringe sudosso 130 vieni la sinistra sudosso tavoletta salta vediamo se salta veramente adesso una tavoletta destra 5 40 e che cazzo destra 2 mezza lunga penalità e ci siamo mangiati si apre questa pista questa pista questa questa mannaggia a noi mannaggia sinistra 3 lunga e dosso lungo curva angolo destra 60 dosso sinistra sinistra mezza lunga dosso destra 5 si restringe diventa 4 sudosso dosso 40 destra 3 mezza lunga sinistra destra sudosso sinistra 3 piccola dosso cunetta 60 dosso destra 5 continua per 80 40 cunetta destra 4 lunga dosso 60 stai al centro sudosso forza salto 40 tienila destra sudosso forza salto 40 sinistra 6 tienila destra sul piccolo dosso cunetta altra guarda eh peccato ragazzi ci siamo siamo andati contro della gente ci ha dato un sacco di penalità e infatti siamo finiti i quarti e in classifica generale siamo scesi in terza posizione un grosso peccato ma questo gioco ti punisce in maniera molto cattiva se trasgredisci ecco se fai qualche errorino andiamo avanti andiamo avanti la cosa peggiore che puoi fare è finire contro la gente ti dà proprio 15 secondi che come vedete sono un'eternità in questo gioco ripariamo il veicolo come suggerito dal team poi qua se no sforo quindi va bene così e avviamo la tappa 5 4 3 2 1 via destra 5 60 sinistra 2 in ritardo destra 5 sinistra 3 mezza lunga destra 4 si apre sul dosso dosso 60 piccolo dosso sinistra 4 sinistra 4 occhio destra 2 si apre sul dosso e si restringe diventa 3 lunga sul dosso dopo pibio 40 sinistra 3 destra 5 sinistra 4 nell'appallamento dosso 60 sinistra 4 mezza lunga 40 destra 4 si restringe diventa 3 e si restringe diventa 2 40 sinistra 3 mezza lunga sinistra 2 40 destra 2 mezza lunga sinistra 5 lunga sul dosso 40 sinistra 3 sul dosso si apre 60 sinistra 3 lunga 40 sinistra 5 lunga sul due dosso salta addosso 40 destra 5 sinistra 2 lunga destra 2 40 addosso sinistra 3 si restringe diventa 30 destra 5 speriamo che non mi frizzi più ma sinistra 2 dopo pibio non tagliare sinistra 4 dopo pibio dosso sto perdendo i pedali piccolo dosso salto 40 si vede che il pavimento di casa mia che è a piomba è troppo scivoloso questi pedali ma non riescono a stare fermi dovrei metterci un panno sotto perché se no andrà a casino sinistra 6 e destra 3 suddosso sinistra 6 nell'affossamento destra 2 suddosso si apre 6 e si restringe diventa 2 sinistra 3 lunga si restringe diventa 2 dosso 80 su piccolo dosso e dosso e dosso e dosso occhio destra 3 mezza lunga 60 su punetta sinistra 4 destra 5 poi sinistra 3 destra 2 40 addosso punetta destra 5 poi sinistra 3 mi riposiziono destra 2 si apre 40 sinistra 4 lunga suddosso si apre 80 su punetta e affossamento attenzione sinistra 4 si restringe diventa 3 suddosso destra 5 merda 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 sinistra 6 suddosso 130 suddosso questa neve ci sta dando non poche difficoltà sinistra 4 lunga 60 tieni la sinistra suddosso piccolo destra 2 40 dosso sinistra 4 dosso occhio destra 6 suddosso sinistra 3 si apre lunga destra 3 lunga e dosso 60 attenzione destra 3 si restringe tornante dentro merda e tornante sono tornate più cattivi di prima dosso 60 madonna come l'ho presa attenzione sinistra 4 si restringe diventa 2 80 destra 4 40 cunetta tra 4 c'è anche un filo tra i coglioni adesso dal freno devo toglierlo devo provvedere a toglierlo che cazzo ragazzi terzi terzi sti cazzo di filio in questa tappa siamo arrivati terzi continuiamo così facciamo l'ultima in classifica comunque siamo sempre terzi ormai a sto punto i primi due stanno prendendo un po' di margine un po' di distacco decisamente 5 4 3 2 1 via sinistra 4 apre lunga sinistra 4 lunga su cunetta dosso 40 destra 4 destra 3 sinistra 6 destra 5 lunga si restringe diventa 3 dopo vivio 40 sinistra 4 su cunetta sinistra 3 lunga si apre su dosso 60 destra 2 mezza lunga sinistra 4 80 destra 3 suddosso cunetta 60 destra 5 80 destra 4 non tagliare sinistra 6 non tagliare destra 5 lunga attenzione dosso 40 destra 3 poi tornante sinistra aperto destra 3 suddosso 40 sinistra 5 su cunetta 40 destra 3 mezza lunga suddosso sinistra 6 destra 6 non tagliare no la neve la neve no la neve no la neve no sinistra 4 lunga discesa si restringe diventa 3 100 sinistra 3 destra 5 si restringe diventa 3 dosso cunetta 40 sinistra 4 lunga 60 su cunetta destra 6 lunga si restringe diventa 4 su cunetta 40 dosso 100 dopo pibio sinistra 4 continua per 80 si restringe su salto 150 su cunetta destra 5 lunga suddosso attenzione tieni la sinistra su salto 130 cunetta ponte 40 non ho la manetta qua ragazzi sinistra 5 su cunetta rallenta 40 attenzione sinistra 4 lunga apri si restringe diventa 3 non tagliare destra 4 non tagliare 130 sinistra 4 dopo pibio 100 dosso 100 attenzione fredda prima della casa curva angola destra 60 quale casa ha questa sono riuscito a prendere la larga allo stesso non vi preoccupate mannaggia la puttana e si stringe anche sta strada nemmeno la strada si vede ragazzi tra un po' sinistra 6 su cunetta continua per 80 dritto per 80 sinistra 5 su cunetta attenzione 60 frena addosso poi destra no 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 niente sta cazzo di neve ragazzi ci ha fregato ci ha fregato 40 sinistra 3 lunga 60 addosso destra 4 nell'appossamento 130 su piccolo dosso sinistra 5 lunga non tagliare occhio 60 destra 3 su dosso continua su dosso 60 su piccolo dosso sinistra 6 a funghi andiamo destra 6 mezza lunga su cunetta sinistra 4 mezza lunga su dosso mi va anche bene che riesco a cadere dritto occhio dosso destra 3 nell'appossamento si restringe 60 sinistra 4 mezza lunga su cunetta sinistra 4 destra 2 apre su dosso sinistra 5 lunga si restringe 3 destra 4 mezza lunga sinistra 1 si apre si restringe poi destra 3 traguardo ai 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 ragazzi sicuramente questo evento è andato molto molto peggio rispetto a quello di prima infatti come potete vedere siamo arrivati siamo scesi di una posizione di brutto anche di un minuto buono rispetto al secondo quindi alla fine purtroppo siamo terzi in classifica generale comunque in classifica siamo rimasti secondi zitti va bene così come vedete sono 6 tappe la prima serie di tappe siamo arrivati terzi la seconda serie di tappe secondi questa serie di tappe attuale terzi e poi ci sono le restanti tre che vedremo come vedete il signor Wilson è sempre arrivato primo quindi questo qui è assolutamente imprendibile sicuramente il signor Clark è quello che è arrivato secondo quindi era sopra di noi in questa serie di tappe però come vedete fortunatamente essendo arrivato settimo in Grecia nel primo episodio comunque riusciamo a stargli comunque sopra di 10 punti buoni quindi buono così dobbiamo cercare di migliorarci e di fare bene la prossima tappa per mantenere la seconda posizione nella nostra classifica generale mentre bisogna proprio cercare di migliorare singolarmente singolarmente proprio come abilità del pilota la prossima serie di tappe è in Germania ma noi la vedremo comunque in un prossimo video quindi vi rinnovo il mio saluto adesso salvo ed esco vi rinnovo il mio saluto e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao 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 Grazie.